Polla e Pertosa si preparano a volare sulle gole di Campestrino. L'iniziativa di realizzare una zipline è partita dal Comune di Polla. Riprendendo un'idea del compianto sindaco Rocco Giuliano, è stato avviato ora l'iter per la realizzazione dell'ambizioso progetto al fine di potenziare l'offerta turistica sul modello del volo dell'Angelo in Basilicata, comprendendo in questo caso anche dei percorsi lungo la ferrovia. Sì, perché sia il Comune di Polla che è il Comune di Pertosa, da alcuni anni puntano a un prodotto turistico, ambientale e culturale d'eccellenza attraverso un sistema integrato dell'ambiente naturalistico e ricreativo intorno alle grotte dell'Angelo. La zipline andrebbe ad ampliare l'offerta dei musei Mida. L'idea complessiva ha quindi funzioni educative e culturali e non solo ricreative e ludiche sugli ecosistemi naturali del territorio. È stato avviato l'iter per procedere alla definizione di uno studio tecnico-economico propedeutico alla realizzazione del progetto chiamato Volare in Gravità nelle gole di Campestrino tra Polla e Pertosa. Da un incontro informale avuto con il sindaco di Pertosa fanno sapere da Polla lo stesso detto aperto all'iniziativa. Quindi ora partirà un'analisi dettagliata del complesso percorso operativo di tutte le attività finalizzate alla creazione del progetto comune tra i due enti, a breve la sottoscrizione di un protocollo d'intesa e nell'occasione sarà illustrata nel dettaglio tutta l'idea.